Marvel What If Episodio 5 e se ci fosse un apocalisse zombie? Wabalabadabdab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Marvel e continuiamo a parlare di What If, una serie che mi sta piacendo altalenantamente, non so se si dice così. Nel quinto episodio finalmente abbiamo visto quella che è stata una delle saghe più fortunate nei fumetti, ovvero Marvel Zombie. L'episodio per come è stato trattato è abbastanza originale, nel senso che è una classica apocalisse zombie con i nostri beniamini preferiti che cercano di cavarsela per sopravvivere, per trovare una cura. Diciamo un episodio un pochino più speranzoso di quanto non accaduto nei fumetti. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che sono diventate degli zombie e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo episodio. Seguitemi anche sugli altri miei social, che oltre a scorrere qui davanti, sono anche qua sotto nella descrizione come link cliccabili. Allora, devo dire che ho sbagliato i pronostici, perché pensavo che Marvel Zombie fosse, diciamo, la punta di diamante di questa serie e che avessero messo quell'episodio per ultimo. Sono stato smentito, perché il quinto episodio ce ne sono altri, però è anche vero che Marvel What If ci ha dimostrato che non tutti gli episodi sono increscendo. Finora, il mio episodio preferito resta il secondo, dove c'è una storia davvero, davvero molto diversa dalla realtà, mentre tutte le altre sono state storie dove il binario si è spostato davvero di poco. Nell'ultima storia che abbiamo visto è stata coinvolta Hope Van Dyke e anche in questo episodio, in un certo senso, è lei un po' il fulcro di tutto, perché pare che questo virus zombie sia stato portato dal regno quantico, ogni tempo un po' di meno. E se nell'episodio scorso era Hope Van Dyke a essere stata uccisa in una missione SHIELD, qui invece della famiglia Pym Van Dyke è l'unica sopravvissuta. L'episodio segue diversi punti di vista di personaggi non zombificati. Comincia con Hulk, quindi dal punto di vista di un Hulk che è tornato sulla Terra e si ritrova molti dei suoi compagni Avengers già zombificati. Vediamo Iron Man, vediamo Doctor Strange, che tecnicamente Bruce Banner ancora non conosce, vediamo Wong nella battaglia contro i servitori di Thanos. Bruce Banner ha lo stesso problema che aveva in Infinity War, ovvero quello di non riuscire bene a trasformarsi ed è francamente fastidioso tanto qui quanto in Infinity War questa cosa. Siamo ben lontani dal, è questo il mio segreto, Cap, sono sempre arrabbiato. Nel momento in cui Bruce Banner viene salvato, oltre che dal mantello di Doctor Strange, che ha una personalità propria, viene salvato da Spider-Man, nel punto di vista passa a quello dell'arrampicamuri e vediamo uno scenario che omaggia i film sugli zombie abbastanza divertenti come Zombieland, cioè dove non c'è un horror dominante, dove c'è anche una fase comedy e questa fase comedy è tenuta da Spider-Man, che appunto come solo lui sa fare fa un filmatino con un va-de-me, con delle istruzioni per non essere morsi dagli zombie, come c'è nel prologo di Zombieland e come anche Love and Monsters, il film di Netflix di qualche tempo fa che a sua volta mi ha ricordato Zombieland. Il Peter Parker che vediamo in questa serie What If? è chiaramente quello di Tom Holland e che lo dimostra il fatto che all'inizio soprattutto mi infastidisce tanto quanto nella versione live action, a dimostrare che non è l'attore Tom Holland che non mi piace, ma questo già lo sapevo, ma come hanno scritto il personaggio di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Fortunatamente però in questo episodio cresce come non è mai cresciuto nei vari film, vediamo che finalmente nomina Zio Ben, finalmente nomina tutte le persone care che ha perso, ovviamente sono molti di più rispetto alla linea temporale che noi conosciamo dal momento che siamo di fronte ad un'apocalisse zombie, quindi sappiamo che ha perso Zio Ben, ma ha perso anche Zia May, ha perso Tony Stark non in Endgame, ma l'ha perso perché è diventato uno zombie, e ha perso anche Happy che era diventato diciamo la persona con cui conviveva, con cui si confidava dopo che entrambi avevano perso Zia May e Tony Stark, anche perché pare che le vicende comunque avessero preso un po' gli eventi della linea temporale che conosciamo noi, ovvero che Happy si era legato magari a Zia May e Tony Stark si era legato magari a Peter Parker prima che succedesse questa apocalisse. Una cosa che mi ha fatto molto specie è che tutti gli zombie, ma d'altronde si chiama Marvel zombie, quindi perché no, tutti gli zombie conservano i propri poteri, le proprie abilità, nel caso di chi abbia superpoteri o poteri magici, conservano i superpoteri o i poteri magici, che è una cosa un po' forzata, però d'altro che stiamo parlando comunque di fantascienza, cioè di una cosa che in realtà non esiste, quindi non ci sono delle regole. Diciamo che nel folklore, nella nostra mentalità, lo zombie è un morto che cammina e perde molte delle sue funzioni vitali, mantiene le funzioni primarie, e quindi si muove per mangiare, perché ha l'istinto predatorio di mangiare, nonostante sia morto. Qua invece chi sa volare vola, chi sa correre veloce corre veloce, chi sa scagliare incantesimi scaglia incantesimi, che è una cosa che va un po' contro il deterioramento del cervello che dovrebbe avere uno zombie, però almeno, diciamo, abbiamo visto qualcosa di diverso, anche perché se avessimo dovuto vedere gli stessi zombie di The Walking Dead, di Zombieland, di Zombie di Romero, cioè, e che me frega, cioè, sarebbero stati gli stessi zombie coi vestiti dei supereroi. Qua invece almeno c'è una minaccia più grande, perché fondamentalmente un Iron Man zombie è molto pericoloso di uno zombie e basta, e quindi mi è piaciuto in un certo senso questa variabile. Come in tutte le apocalissi zombie che si rispetti, si parte da un gruppo di persone che cercano di sopravvivere e via via durante l'episodio queste persone, a cui ci si affeziona, mano a mano vengono uccise brutalmente dagli zombie. Si comincia con Happy, che viene ucciso da Occhio di Falco, versione zombie, Sharon Carter poi uccide Happy, e poi a sua volta viene ammazzata da Captain America versione zombie, che viene tagliato in due dal suo stesso scudo, da Bucky. Una scena tra le più belle, perché sancisce un po' tutto il cerchio, diciamo, di questi tre rapporti, il rapporto tra Bucky e Captain America, il rapporto tra Sharon e Capitano America, eccetera. Quindi c'è anche stata una strizzata d'occhio anche alla serie tv Falcon and the Winter Soldier, sia per la presenza di Sharon, ma anche per la scena in cui Okoye uccide Falcon per salvare Occhio di Falco, per salvare il soldato d'inverno, e il soldato d'inverno Bucky dice eh, dovrebbe dispiacermi, ma non è così. Quindi un po' per continuare questa loro bromance di amore e odio che è presente fin dal secondo Captain America. Diciamo che la parte migliore di questo episodio è la parte centrale dove appunto tutti cercano di sopravvivere, a volte fallendo. Poi si va in una parte finale dove in uno strano campo militare c'è visione e per qualche ragione sempre, ripeto, sospensione dell'incredulità, non ci sono delle regole su un apocalisse zombie, su cos'è uno zombie, su cosa lo attrae, su cosa lo repelle, perché gli zombie fortunatamente non esistono. E diciamo che la gemma della mente pare allontanare gli zombie, addirittura con un'irradiazione massiccia della gemma della mente su uno zombie, si può guarire. Vediamo che visione sta appunto studiando questa cosa, ma ha anche un, diciamo, ha anche dei retroscena molto lugubri, molto sinistri, alimentati dal suo amore verso Vanla. Quindi abbiamo questa doppia faccia di visione. visione è stata una cosa un po' particolare, però fondamentalmente è stato anche bello vedere che visione è vivo, dato che è un android e quindi non avrebbe avuto senso la sua assenza. Mi ha fatto molto piacere che ci fosse. Non capisco perché con un raggio della mente, con un raggio attraverso la gemma della mente, non abbia fatto piazza pulita di tutti gli zombie attorno per far scappare i ragazzi, invece di sacrificare, neanche sacrificarsi, si è praticamente proprio tolto la vita. Poteva farlo, ma poteva prima fare piazza pulita degli zombie. Lo stesso vale per Hope Van Dyke. È stato fantastico, diciamo, il suo sacrificio, la sua idea di diventare gigante, anche se non sapevo che la tuta di Wasp potesse farlo, ma per carità può averla modificata. Però mi ha fatto strano che nessuno abbia concepito il fatto che potesse diventare una zombie enorme. nemmeno Peter, che comunque è molto intelligente. Vabbè, fa niente. Abbiamo visto una zombie enorme e ci è piaciuto così. Francamente non ho capito molto il finale, perché il finale è dove si scopre, oltre alla testa di Hank Pym che avevamo visto nel trailer, che è frutto degli esperimenti di visione per curare gli zombie, quindi abbiamo un Hank Pym che ricorda le teste di Futurama, un Challa re di vivo che ha subito semplicemente l'amputazione della gamba, presumo da parte di visione, per salvargli la vita dal virus, e Peter Parker, alla fine sono gli unici tre sopravvissuti. Magari è sopravvissuto anche Bruce Banner che finalmente si trasforma in Hulk per combattere Scarlet Witch zombie. Non lo sappiamo, però che prendono l'aereo e vanno in Wakanda, ci sono solo questi tre personaggi. Francamente pensavo che anche Peter Parker diventassero zombie, ma non so perché, forse perché nei fumetti avevo in mente che lo diventava anche lui. Però non ho capito il finale, alla fine portano il virus anche in Wakanda, non ce la fanno a sconfiggere gli zombie e di conseguenza quando Thanos arriva in Wakanda diventa uno zombie anche lui, perché c'è una scena finale con Thanos zombie. Ma se il virus è venuto dal regno quantico e non dallo spazio, come può averlo contratto anche Thanos? Quindi i casi sono due, o Thanos l'ha contratto in Wakanda e quindi i nostri eroi non ce l'hanno fatta, anzi hanno portato il virus in Wakanda, o in alternativa i figli di Thanos che sono stati ammazzati da Iron Man zombie e compagnia bella sono stati ritele trasportati nella nave madre di Thanos portando il virus. Non c'è dato saperlo. Secondo me, come ogni film sugli apocalissi zombie che si rispetti, la mia ipotesi è sempre quella più pessimistica. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se questo episodio vi è piaciuto. Devo dire che è stato molto bello, però diciamo, è stato un po' un contentino per chi adora la serie Marvel zombie anche nei fumetti. Quindi, non un'idea originale come per esempio quella dell'episodio di Star Lord interpretato da Challa nell'episodio 2, però comunque è molto bella la reinterpretazione della saga fumettistica Marvel zombie. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Vi dico già che il video prossimo sarà venerdì e sarà un video di unboxing e poi ancora domenica e parlerò di un vecchio fumetto di Dylan Dog di dieci anni fa per presentare una live che si terrà sempre domenica sera alle ore 20 e 30 circa dove parleremo appunto di Dylan Dog e la malattia. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a tutti.